Amici DigiCase buongiorno e buon lunedì 20 febbraio 2023 eccoci immersi in quello che da noi è il carnevale quindi siamo proprio nei due giorni di carnevale molti dei nostri bambini e dei vostri figli sono a casa da scuola e si stanno godendo finalmente un carnevale libero e spensierato dopo ormai tre anni di blocco eccoci qua finalmente a farvi vedere un appartamento che può accontentare tutti basti guardare quello che ora vi indico come un quadratone gigantesco poi alla fine del video ci vado lì questo è il giardino privato di questo grande appartamento con addirittura tre camere da letto a cerete la sopra c'è clusone qua dietro c'è rovetta quindi siamo in una posizione fantastica e sappiate che siamo anche a 7 8 minuti da l'over e quindi dal lago di iseo qui si raggiunge facilmente castello della presolana al monte pora là sopra vedete cerete alto qua siamo in una posizione che accontenta anche le famiglie proprio perché vi permette di andare a piedi ai servizi essenziali quali alimentari bar poste pizzeria e quant'altro e ad avere anche una zona davvero grande più di un campo da tennis per giocare con i propri figli o per i nostri amici a quattro zampe o semplicemente per una grigliata meravigliosa vedete che c'è già il barbecue lì in muratura è la zona per mangiare in anteprima esclusiva non ancora in pubblicità vi faccio vedere questo appartamento e io ci entro subito perché è davvero troppo bello per indugiare e voglio che possiate godervelo in tutte le angolazioni innanzitutto guardate entrando c'è subito sulla sinistra questo imponente camino vedete un camino tradizionale davvero molto bello e guardate lo spazio che c'ha il soggiorno guardate uno spazio davvero molto ampio questa è la scala che porta poi alla zona sottotetto con le camere da letto e guardate qua il suo divano letto matrimoniale uno spazio davvero immenso davanti al camino e davanti alla bellissima vista che c'è apertissima verso clusone verso la presolana e verso il proprio giardino privato il grande giardino privato e poi al di là del muretto come vedete al di là del muretto dove c'è questo divano divano letto c'è una cucina davvero meravigliosa con una cassa panca guardate qui che gira che fa ad angolo che fa una l meravigliosa il colore del legno le travi a vista che accompagnano poi il colore invece soft della cucina una cucina molto molto bella guardate anche soltanto come sono queste antine davvero spettacolari lava stoviglie qua ancora nuovissima e qua il frigorifero e quant'altro chiaramente stiamo sempre parlando di una casa con il riscaldamento autonomo a metano proprio oggi pomeriggio abbiamo la revisione di questa caldaia quindi avrete chiaramente anche il libretto con la revisione della caldaia guardate dalla zona dalla zona tavolo della zona cucina che bella vista che si ha verso il camino e verso la televisione e con queste travi a vista spettacolari come vedete dalla cucina c'è addirittura un'altra porta finestra con un piccolo balconcino anche laterale che ha la vista verso il paese di cerete alto e tutta la zona sappiate che qua dietro poi si arriva al paese con tutto con tutti i servizi a disposizione guardate rientriamo vi mostro nuovamente tra l'altro anche i muri si nota poco ma sono intonacati e pitturati davvero molto bene con con questa pittura forse si vede qualche brillantino che dà proprio luminosità e alla all'ambiente è un grigio chiaro molto molto carino che ci sta davvero a pennello questo appartamento viene venduto in anteprima esclusiva compreso di un box davvero molto ampio l'arredo che vedete è questo giardino a soli 99 mila euro ok è il classico prezzo clamoroso dovrebbe essere 100 mila ma per darvi la psicologia abbiamo abbiamo convinto la proprietà a scendere di 99 mila euro anche per entrare nei nei vari nei vari range anche per chi cerca la casa massimo di 100 mila quindi 99 mila euro questo è il primo bagno ce ne sarà un altro sopra guardate con l'attacco della lavatrice un bellissimo mobile bagno finestrato come vedete water bidet e un bel box doccia da 80 per 80 porta scomparsa come vedete e qua anche un armadio ripostiglio con tutte le cose del bagno qui come vedete nel sottoscala c'è questo mobile che accompagna un pochino il colore di tutta di tutta la zona giorno perché al di là delle travi a vista come le volete col colore tradizionale del legno invece il legno della cucina e anche di questi mobiletti tavolo e cassapanca più soft più un legno naturale come vedete e saliamo saliamo perché sopra c'è un c'è un mondo c'è un mondo perché si conteranno addirittura tre zone letto più più il bagno io entro subito in una delle camere da letto in quella che è stata utilizzata come camera matrimoniale io indugio un pochino sto un pochino fermo per darvi anche il gusto bellissimo anche del pavimento come vedete anche la finestra quindi non parliamo di sottotetti con lucernari ma con queste grandissime finestre con questa vista assolutamente straordinaria e se mi giro vedete anche l'armadio che va degradando io arrivo fin qua per dimostrarvi che comunque solo nella parte finale si picchia la testa e poi sul davanti come vedete grande spazio anche la cassettiera e all'attacco della televisione c'è sempre una pitturazione fatta con questi cristalli luminosi che si vedono più ad occhio nudo che attraverso il video ma vi garantisco che non è una casa che dovrete imbiancare questo è il disimpegno come vedete siamo saliti da qua da questa bella scala abbiamo visto la prima camera da letto entriamo in questa seconda sempre con le porte lasciate aperte però guardate che bella qui siamo sul verde con una scrivania abbiamo noi allestito un pochino mettendo un giornale insomma per farvi vedere davvero l'utilizzo che potrà essere fatto di questa bellissima casa come vedete qui dove c'è questo bellissimo vasettino di fiori c'è l'altra finestra che guarda verso verso il cerete alto quindi verso la montagna verso la presolana e come vedete questo lettino singolo ma volendo se ne potrebbe appaiare un altro questa però è pensata proprio come camera singola proprio perché avendo addirittura tre camere adesso entriamo nella terza eccola qua questa terza e grandissima camera qua invece abbiamo doppio lucernario un lucernario di qua che guarda verso il cielo due letti guardate al retro un attimo per farvi vedere i due lettini un armadione bello qua dove c'è l'ingresso e se invece mi porto proprio qui a ridosso dei guanciali vi faccio vedere l'altra parte della camera quindi l'altra zona l'altra gli altri armadi una poltrona letto quindi potenzialmente una camera già arredata per tre posti letto chiaramente in ogni ogni zona di sottotetto di vita camera come vedete c'è un suo calorifero quindi la sua indipendenza anche dal punto di vista del dei caloriferi come vedete sotto la finestra in ogni locale c'è il suo calorifero mi piace farvelo vedere un pochino più attentamente rispetto alle altre volte qua abbiamo il bagnettino della notte guardate che bello sempre col sul lucernario water bidet e lavandino proprio l'ideale per non dover fare le scale ogni volta come vedete bagno che dà nel disimpegno e quindi può dare accesso a tutte e tre le camere da letto scendiamo nuovamente magari andiamo giù nel giardino che è sicuramente interessante vi faccio rivedere intanto ancora una volta la zona soggiorno perché è davvero molto bella la zona cucina con suo tavolo e la cassa panca ed ecco qua la zona soggiorno con suo tavolino abbiamo già qua pronto l'aperitivo per voi scendiamo giù in giardino ecco si scende da questa scala la scala che porta all'appartamento come vedete è una scala coperta guardate le travi a vista anche è un residence davvero molto bello vi faccio vedere magari la corte interna per farvi capire come è ben tenuto il residence eccolo qua qui a cerete in via sorgente moia questa è la scala che porta all'appartamento quindi per andare al proprio giardino si fa questo percorso c'è il proprio cancellino privato e si ha questo campo da calcetto si può dire guardate che bello è davvero molto molto grande io adesso sto percorrendo tutto il camminamento fino alla zona dove c'è questo bellissimo ombrellone e questa pavimentazione in veole che ti permettono di mangiare con i tuoi amici come vedete anche il barbecue e qua tutti i pratoni da qua dietro come vedete ci sono i sassi c'è un sentiero che va che va verso il paese va verso tutte le camminate migliori che ci sono qui a cerete la sopra è l'appartamento io spero di avervi fatto vedere qualcosa di estremamente interessante grazie a tutti quelli che mi hanno scritto in queste due settimane perché non ero in una diretta vera grazie a dio anch'io e la mia famiglia siamo stati una settimana in ferie ora siamo qui 320 033 4332 chiamatemi direttamente o mandate whatsapp sono a disposizione o 0346 239 33 per chiamare in ufficio ed essere spostati su qualsiasi altro nostro collega qui a cerete per vedere questo appartamento a 99 mila euro compreso l'arredo tre camera ovviamente c'è un box molto grande proprio qua nella zona interrata quindi una casa che non lascia nulla al caso quindi accontenta davvero tutte oltre avere questo giardino straordinario dove sono in questo momento quindi mi raccomando chiamateci non è ancora in pubblicità 99 mila può essere vostro grazie ancora da stefano buon carnevale a tutti soprattutto ai bambini e un caro saluto davvero da tutto lo staff di casa